Quando la squadra arriva a Caselle alle due di notte ad aspettarla ci sono i tifosi che non sono potuti andare in Romania. Questa Chieri ha scritto la storia, impossibile non celebrarla. La Challenge Cup la tiene stretta il capitano, Kaya Grobelna. Sua la schiacciata decisiva contro il Lugoi, suo l'onore di sollevarla nel palazzetto di Timisoara. Il giorno dopo Chieri ringrazia le ragazze di Mr. Bregoli con uno striscione, i tifosi organizzati, i briganti rivivono l'impresa. C'è stato un momento in cui hai capito che la Coppa potevate vincerla davvero? Sì, già dall'inizio, dalle partite preliminari, già dai sedicesimi, già dagli ottavi perché lo vedevamo negli occhi delle ragazze. Scegli una giocatrice? Ah guarda, se parli con me ti do sempre il capitano. Kaya Grobelna per noi è stata una bandiera. La giocatrice che scelgo è Francesca Villani, infatti noi abbiamo anche fatto un coro per lei, come per tutte le giocatrici, però lei in particolare è Villani's on fire, quindi Villani's on fire. Il pallone della partita da oggi arricchisce la bacheca del presidente Filippo Verniano. Una squadra molto coesa, molto forte, molto coesa, con uno staff tecnico di assoluto livello. E poi devo dire che forse la differenza a Chieri la fa anche l'ambiente, perché l'aria che si respira nella città, che si è sempre respirata e si respira intorno al gruppo è un ambiente che fa la differenza. Adesso che ambizioni ha Chieri? Beh, adesso è difficile perché alzare ancora l'asticella credo che sia veramente dura.